la foto preferita Cosa? Come osi? Io continuo a pensare che con quel vestito sembravi stupida Basta, ora sì che sono arrabbiato Basta, sono stanco in piedi Ora mi hai proprio stufato, vattene! Oh, sembra che io sia la benvenuta Ciao, ciao Davvero, papà, chi è? Ciao E tu chi sei, piccolina? Papà, no È un vampiro Se ho ragione, siamo in grave pericolo Ma devo esserne sicura Trasformarsi in pipistrelli È davvero lei? Ho voglia di mangiarti Sei un vampiro, aiuto! Può trasformarsi in un pipistrello, guarda, è un vampiro Oh, niente, caro Sì, guardami negli occhi Oh no, lo ipnotizza! Veloce, scappa! Oh, che sciocca Cosa? Tesoro? Oddio! Cosa ti è successo? Ah, ti smaschererò Riprenditi Buono È ancora qui Ci deve essere un modo Vediamo il riflesso Foto fatta Ecco Papà Ora posso mostrartelo, guarda È lei, ecco, laggiù Davvero? Sì, beh, si chiama Mattia È un trucco facile, vedi? Hai visto? Ah, quindi è così che si fa Dai, sono un trucco Forse è meglio Forse nel libro Fa vedere Au, il mio dito Accidenti Sento sangue Ti ho trovata Dammi quel dito Delizioso Oh, si è tagliata un dito, caro Cosa? Perché urla? Ora è tutto a posto Quelle urla mi hanno spaventato a morte Che schifo Ma siamo così fortunati Ad avervi tesoro Finalmente qualcosa per fermarla Cibo piccante, eh? Sarà davvero divertente Sì, sembra sangue Anche se puzza Cara Cosa? Non è il tuo preferito Grazie Ha uno strano sapore Accidenti Papà Che c'è? Oh mio Dio Cos'è che sta bruciando? Quella marmocchia mi ha ucciso Cosa? Anna, è tutta colpa sua Accidenti, stai bene Opsi Tesoro Cosa diavolo stai facendo? Ti succhierò il sangue Ti succhierò il sangue Oh no, mamma Cavolo, dov'era? Me? Ah, lo sapevo E lei? Mamma, sei tu Oh, tesoro mio Vieni dalla mamma Quella donna è un vampiro Lo so, tesoro E penso che sia ora di darle filo da torcere Cosa pensi che dovremmo fare? Aglio, ecco che cosa Hai ragione Bene Cominciamo l'allenamento Pronta? No, tesoro Prova con questa Caspita, figo Con questa la colpirò di sicuro Bel colpo ben fatto, tesoro Non dire altro Tesoro Lo sai che Tesoro, sei stato un malattico Ma io no Lasciami, lasciami Ciao Cosa stai facendo? Aspetta Cosa? Ah Oh no Ora siamo pronte per la battaglia finale Niente vampiri in casa nostra E lei se ne andrà Proprio così, tesoro Ia Ah Ora mostrami Dobbiamo essere forti Pronti ad affrontare qualsiasi cosa Ascoltate il nostro ruggito Ah Mostrami che farai Brava ragazza Ora siamo pronte E ancora una cosa Oh, puzza da far schifo Ma a noi piace così È lì? Sì, proprio lì, mamma Non se ne aspetta Andiamo Ottimo Dobbiamo agire Che cosa c'è che non va? Mordi questo Aspetta Ma è Che aglio Pecola mascalzona Me la pagherai Addio Tesoro Tesoro Ce l'hai fatta L'hai fatta andare via È lui Ciao Non mi aspettavo di vederti Ciao bellissima Mi dispiace anche a me Mi dispiace tanto Accidenti Non voglio guardare Non voglio guardare Non guardi Meglio Che buono Che buono Ma che Oh, eri deliziosa Mia cara I miei denti Oh no Avanti Dai Lei è già qui Ehi tesoro Ciao ragazzi Ehi Arci Questa è la sua Buona patrina Cosa abbiamo qui Penso che ti piaceva Giochi e snack Ecco Cibo spazzatura In questa casa La competizione è così vicina Sarò io il vincitore Facilissimo Scusami Che casino Fammi salire Mamma Ferma Mi sto preparando per Te l'avevo detto Di non salire Quassù Vai a casa Tesoro Ora è tutto pulito Ok Cominciamo Ciao tesoro Ciao tesoro Come stai? E' ora di andare ad un resto Ciao Ciao Ok ok Vado Soli d'oro Ma dai Ma dai Cosa sta succedendo? E' tutto ok Vado a dormire Facile Preso Vai a letto Vai a letto Ok Sveglia Che succede? Prepariamoti Per la tua competizione Ma è una gara di videogiochi Corpo sano Corpo sano Mente sana Cibo spazzatura? Non esiste Che succede? Che succede? Mangia il tuo cibo Mangia il tuo cibo Oh bene Andiamo Andiamo da nessuna parte conciato così. Ora sei pronto? Lei è qui! Ciao! Veloce! Entra prima che ti senta! Siamo al sicuro ora! Cosa abbiamo qui? Ok, mamma, vai a preparare degli spuntini! Vieni con me! Andiamo! Tesoro, ti ho portato... Dove sono? La bacerai? Battene via! Grazie! No, 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 no! Questo è tutto! Me ne vado! Ma, 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 ma... Ops! Così impari a rovinare le mie relazioni! L'album delfotto della mamma! Ci sono! Era una gamer! E ha vinto? Cos'è questo casino, ragazzo mio? Sei così cool! Puoi insegnarmi? Va bene, tesoro mio! Dacci dentro! Andiamo! Sì! Vai! Ora sei pronto! Mi sento pronto! Ben arrivati alla Gaming Champion League del 2022! Pronti? Partenza? E inizio la battaglia! Sei di nuovo qui! Non hai nemmeno fatto i compiti! Ma è la competizione! Torna nella tua stanza! Una è uscita! Sì! Sei fuori! Oh! Oh vinto! Sì! E la cambiiamo un nuovo campeone! Sì! Sì! Giochiamo! Vi adoro, ragazzi! Anche io ti adoro! Volete dei biscotti? Ne hai ancora? Ancora? Nessun problema! Ah! È così che le hai fatti? Sul serio? Che schifo! Ho fame! Queste sono più buone! Pulisci, figliuolo! Ti stai godendo il tuo nuovo laptop! Pulito! Rifiuti rilevati! A che cosa stanno giocando? Ti ho salvato! Spero che tu abbia ripulito! Arci! È colpa tua! Ti faccio vedere io! Divertiamoci un po'! Che scoperta! Gazà! Gazà! Perchè? Voglio giocare con te! Gioca con me! Cosa vuoi da me? Game over? Voglio giocare con te! No! Game over? Sì! Come hai fatto? Esci! Adesso! Mamma! Non dirò la mamma! Non dirò la mamma! Eccoti! Giochiamo! Eccoti! Oh, 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 oh. Devo postarlo. Devo fare rifornimento. Devo trovarne altro. Oh, ecco cosa mi serve. Oh, non è abbastanza. Sì. Cos'è successo? Dove posso trovare delle cannucce? Oh, molto meglio. L'ha bevuto veramente? Sai che c'è? Sei tu. Quasi finito. Mamma, papà, guardate. Siamo, tesoro. Oh, mio caro, è bellissimo. Grazie, mamma. È rovinato. Oh, no. È finita. Proprio così. Vattene e non tornare mai più. Oh, no, si sono lasciati. Papà se n'è andato. Ho preso questi per te. Grazie. Cosa? Il mio disegno. Com'è deliziosa. Oh, oh. Cosa stai facendo, signorina? Sto solo facendo uno spuntino. Ne vuoi un po'? Molto divertente. Pulisci subito. No. Ah, devo fare tutto io qui dentro. Avanti. Mi scivola. Wow, rendi tutto sempre difficile. Ah, ah. Oh, ah. Ah, ops. Questo sapore sta creando problemi. Devo fare qualcosa. Per prima cosa farò un buco. E adesso ci infilerò uno spago. Hai capito cosa ci farò? Ecco, mettitelo intorno al collo. Ora non lo perderai più. Beh, non è una cattiva idea. Ups. Wow, funziona. Ma è geniale. Ehi, lo so, vero? Brum, brum. Ah? Oh, ciao, tesoro. Sei così carina. Che ti prende? Oh, niente. Sono qui solo per controllare come stai. Non far caso a me. Sei strano. Devo essere qui da qualche parte. Ahia. Ehi. Dove sono? Fammi controllare qui. Cosa stai facendo? Trovati. Ma manca qualcosa. Le ruote. Che c'è? Hai qualcosa di cui ho bisogno. No, per favore. O la fai in silenzio. Queste ruote sono perfette. Ehi, là, la mia macchinina. Ho una strato bene, vero? Sono pronto per fare un giro. Andiamo. Wow. Wow. Oh, che male. Ah, non funziona. Oh, è rotta. Tesoro, cosa c'è che non va? Oh, hai rotto un giocattolo. Te ne comprerò degli altri. Oh, tesoro. Sono venito. Non preoccuparti. Mi prenderò cura io di te. Che ne dici? Ma mamma. Non è giusto. Ciao. Ciao, tesoro. Papà, mi manchi tanto. Sto arrivando, tesoro. Evviva. Tesoro. Ehi. Come stai? Sto solo cercando una cosa. Oh, le mie scarpe. Ops. Perché il telefono è per terra? Prese. A dopo. Oh, è il mio telefono. Ma me l'ha regalato il mio papà. Non posso credere che l'abbia rotto. Ehi, tesoro. Sono a casa. Papà, mi sei mancato. Ora che sei qui, puoi comprarmene uno nuovo. Oh, no. Allora. Non posso comprarne uno nuovo, ma posso crearne uno. Dopotutto, sono tutto a fare. Sto realizzando un modello completamente nuovo. Hai presente i telefoni pieghevoli? Beh, ne avrai uno. Fidati. Ti piacerà. È ora di assemblare tutte le parti. Ne impilerò come un panino. Non male. Ehi, papà, puoi farlo rosa. Certo, tesoro. Quasi fatto. Ora la ciliegina sulla torta. Una foto di te e me. La metterò in questo slot. Ehi, tesoro. Guarda. Puoi anche premere i pulsanti. Wow. Grazie, papà. Sei il migliore. Qualsiasi cosa per te, tesoro. Non hai un calendario? Non è il giorno del papà. Vai via. Va bene. Fa bella solo salutare. Perché non ti copri un calendario? Tanti auguri. Buon compleanno, tesoro. È ora di soffiare la candelina. Grazie, mamma. Eccoti qua. Forza, sbrigati. Trappoletta. Ok, mangiamo. Ma non ho ancora espresso il mio desiderio. E adesso che c'è? Basta con i rappresentanti. Ho un regalo per mia figlia. Gli lo darò io. Addio. Ci vediamo mai più. Oh, mi è venuta in mente una cosa. Non gli ho fatto alcun regalo. Ma ora ne ho uno. Dove posso mettere questo? Oh, ora ho due regali. Sono un genio. Buon compleanno. Papà è venuto. Oh, da parte tua. Grazie. Eccolo è uno da tuo padre. Una mela. Ancora ci tiene a me? Che dolce. Sono serio? È ora di essere creative. Spero davvero di prendere un occhio. Cosa mi succede? Oh, ma dai! L'ho strurato una settimana fa. Non ne posso più. Oh, i miei compiti sono rovinati. Devo andare ad aprire. Arrivo. Salve, entra pure. Ciao. Sembri familiare. Sono qui solo per riparare il lavandino. Va bene, da questa parte. Ti serve questo? Sì, credo possa andare bene. Bene, bene. Oh, è davvero un pasticcio. Guarda cosa riesci a fare. Va bene. Ora ci penso io. Mi sembri familiare. Lo spero proprio. Sono io. Papà, sono così felice che tu sia qui. Guarda. I miei compiti sono rovinati. Oh no, ma so cosa fare. Tua padre ha sempre una soluzione. Adesso coprirò i disegni con questo nastro, così non si bagnerà. Sono un vero genio. Ora puoi continuare a fare i compiti. Ma come faccio a colorarli? Ci colori sopra. I pennarelli sono un'arma segreta. E la parte migliore? Puoi togliere il colore quando vuoi. Magia. Fammi provare. Wow, ora posso usare tanti colori diversi. Ups, fammi sistemare. Ho fatto. Che ne pensi? Mi piace. Andiamo. Un attimo. E? Ho bisogno dei tuoi giocattoli. Ecco a te, papà. Li metteremo tutti sotto il lavandino. Così il tuo patrigno penserà che sono ancora qui. Ottimo. Andiamo. Aspettami. Stai ancora lavorando? Oh beh, sono passati solo cinque minuti. Evviva! Prendi! Prendi questo. Wow! Sei così divertente. Stai mangiando a letto? No. Cosa c'è dietro di te? Niente. Ho detto nulla. Sei una piccola monella, non è vero? Ne ho avuto abbastanza. Lo dico alla mamma. Fai pure. Le dirò che hai fatto un bel pasticcio qui dentro. Così si imparerà. Questa pianta? A terra. Apriti sesamo. I tuoi vestiti andranno ovunque. Ecco cosa ottieni a metterti contro di me. Ups. Oh? Che fai? Oh no! Oh no, non può essere. Sto solo ridecorando. Non prendermi in giro. Vai via. Ma cos'ha quello? Ehi, questi sono per te. Davvero? Grazie. E se tornassimo insieme? Oggi si va a scuola. Che bello essere a scuola. Ho giocato di nuovi conti. Oh no! Aspetterebbe i vostri genitori. Gen-genitori? Oh no! Cos'è successo questa volta? Un nuovo giorno e una nuova avventura. Alleniamoci, tesoro! Mamma, mamma, dai! Uno, due! Uno, due! Forza, tesoro! Lexi? Oh, Lexi! Svegliati, Lexi! Sì! Ehi, la tua colazione! Grazie, mamma! Dove sono? Buongiorno! La colazione è a tavola! Grazie, mamma! Cos'è? Di nuovo le uova! Come sempre! Sul serio, mamma? Sei pronta per la scuola, tesoro? Sì! Credo di sì! Fammi vedere! Mamma! Manca qualcosa! Ancora una cosa, tesoro! Il tuo pranzo! Grazie! Verdure! Grazie, mamma! Fai la brava, tesoro! Cosa c'è per pranzo? Niente! Hai preparato qualcosa per pranzo? Pranzo? Prendi questa! Io... Grazie! Io... Proprio quello di cui ho bisogno! No! No, 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 no! No! Ehi! Sei ripersa! Ehi, serve aiuto? Dammi la mano! No, grazie! Dove stai andando? Oh, la lezione è iniziata! Otti in punto! Sono in ritardo! Oh, fai sul serio! Questo dovrebbe essere oggi! Duh! Oh, che cosa ho appena fatto? Sì, non è verticale! C'è di questo! Oh, grazie! Aspetta, signorina! Che cosa? Allora, continuiamo! Alla lavagna, per favore! Giù di! Cinque! 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 Cinque più cinque... Dieci! Risposta è data! Torni al tuo posto! Scusa! Alexi, ora tu! Vieni! Ok! Ho fatto! Non è corretto! Torna al posto! Ragazze, mi state deludendo! Entrambe! Ma è incredibile! Un quattro per voi, ragazze! Non mi importa! Fareste meglio a prepararmi per l'esame finale! Esame finale? Come farò io adesso? Oh, rilassati! Oh, che carino! Ne farò uno scherzo! Prendi! Dove? Guarda! Ti stavo solo prendendo in giro! Guarda! Oh, mamma! Wow! Gostosa! Grazie, mamma! Scusa! Ma cos'è questo? Ma mamma! So io come risolvere questa situazione! Oh, no! Ma dai! Finalmente sono a casa! Sono pronta! Buonissimo! Oh, che buon odore! Oh, arrivo! Sembra gustoso! Oh! Sì, più attenta! Fa bene alla pelle! Forse puoi aiutarmi con questo? Ok, ti aiuterò io! Ho qualcosa per te! Bariamo! Oh, sì! La prima lezione! Oh, siamo pronte, tesoro! Facciamolo! Ecco, tesoro! Buona fortuna! Seconda lezione! Oh, bene, Lexi! Wow! Oggi ci saranno le tave finale! Siete pronti? Siete bellissime! Andiamo! Potete iniziare! Già! Oh, sì! Potete iniziare! Oh, sì! Forza, 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 forza! Oh, sì! Fatto! Fatto! Siamo pronti a dominare la vincitrice? E la vincitrice... È troppo! Chi ha ragione! Ma voi siete matti! Mia figlia è la migliore studentessa! Oh, che figo! Come ti permetti di togliere la foto di mia figlia dal muro? Mia figlia è la migliore! Finca! Ah, no! No, no! Non ti voglio sia meglio! Ah, sì! Mio figlio è la migliore! È più brava! Come questo! No, no! No, no! No, no! No, no! No! No, no! No, no! No! Mamma, guarda cosa ho trovato! Sarò io la migliore! La mamma non mi troverà mai! Oh, che cosa? Ripulisci! Tesoro anche lì, per favore! Oh! 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 Non importa! Oh! Che cosa? Voglio bere qualcosa! Aspetta un attimo! Pulisci la cucina! Scongela il pollo! Torna alle 17! Oh! Oh, no! Arriverà presto! Oh! 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 Quanti finito! Fatto! Il pollo! Oh! Oh! È ghiacciato! Oh! Ho un'idea! Ho visto questo trucco su TikTok! È caldo! Ha funzionato! Manca poco alla gara di ballo! Gara di ballo! Fighissimo! Ma prima... La colazione! Oh! 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 Usa il tagliere! Oh! 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 Sì, vabbè! Niente telefono a colazione! Oh! 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 Il diario di Maya! Dovrebbe essere interessante! Oh! Oh! Non dovrei farlo! Ehi, controllerò solo una cosa! Non lo sapevo! E ha detto così? Che cosa? Oh, è persino meglio della tv! Chi è questo tizio? Mamma, cosa stai facendo nella mia camera? Niente, tesoro! A proposito, lui come si chiama? Ricorda di sistemare, io devo lavorare! Ciao, mamma, puoi filmare questo foglio! Non ora, tesoro, dopo! Sì, sono appena tornata dal lavoro e sto facendo stretching! Puoi firmare ora? Non ora, tesoro, non è il momento! Il mio tesoro! Oh, ma che bello! Scusa, ma ho un'altra chiamata! Pronto? Ciao, mamma! Puoi firmare la domanda? Ok! Luna, ti porto la colazione! Oh, Luna! Cosa ti è successo? Cos'è quel naso rosso? Sei malata? Ci penso io! Ma mamma, non sono malata, è solo il rossetto! Ma magari sei comunque malata! Ora sei al sicuro! Ciao, mamma! Fermati! Lo sapevo! Mamma, ma ho già pulito la mia stanza! Lo vedremo! Ma mamma, ti avevo detto che avevo pulito! Oh, no! Oh, no! Bene, bene, Maya! Sembra proprio che tu non abbia pulito proprio tutto! Ma mamma, è tua! Vabbè! She's a Barbie girl! In a Barbie world! Ehi, Savvy! Ti abbiamo preso una nuova bambola! Megan sarà la tua babysitter! È la tua nuova tata! Divertitevi! Cosa? Oh, oh! Stupida bambola! Ma cosa? Hai fame? Mamma! Risposta sbagliata! Niente più cereali per te! Ti ho preparato un bel porridge! Buon appetito! Iu, ma che cos'è? Mangia adesso! Sì, certo! Io non lo mangio mica! Buon appetito, pianta! Fatto! Cosa? Che velocità! Fammi vedere il piatto! Mmm, questo cos'è? Dove? Ti meriti un dolcetto! E so esattamente cosa fare! Non capirà mai che è un semplice broccolo! Invece assomiglierà a un vero lecca-lecca! Ha, 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 ha! Oh! Wow! È un lecca-lecca! Oh! 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 Io... Devi mangiare le verdure! Oh! E tu devi andartene da casa mia! Oh! Io la odio! Anche il mio peluche la odia! Oh! 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 Che è successo, Savvy? Oh! Oh! Adesso pulisci! Mi dovrei costringere! Ops! Adesso i Lego sono dappertutto! Pulisci! Proviamo il trucco col nastro adesivo! Cosa? Oh no! Aiuto! Upsi! Ah! Che succede? È ora di ripulire, Monella! Megan! Oh! Non sono un aspirapolvere! Oh! Liberami! No! Oh! Mamma! Guarda com'è pulito! Wow! Ma sono stata io! È ora di lavarsi i denti! Wow! Cosa? È ora di andare a dormire! Sono le venti! No! Niente più giochi! Uffa! Bene! Fammi controllare se dorme veramente! Bambina cattiva! Adesso le farò vedere io! Non devo svegliare nessuno! Preso! Di addio al tuo stupido wifi! Ciao, Sabby! Come fai a stare nel mio tablet? Sabby! Lei è ovunque! Oh no! Niente più giochi! Tanto cielo! Niente più giochi! Niente più giochi! Niente più giochi! Niente più giochi! Sogni d'oro! Sogni d'oro! Senti, tu non sei Megan! Ciao, Sabby! Posso aiutarti? Che bel collo che hai! Mi fai il solletico! Le mie zanne! Niente mostri in questa casa! Aglio! Addio, mostro! Wow! Megan! Grazie per avermi salvata! Adesso vai a dormire! Sì, certo! Bene! E fai finta di non aver visto nulla! Devo sbarazzarmi di lei! Ma domani! Sì! Fai attenzione con quella palla! Attenti al cane! Megan, giochiamo insieme! Ci sto! Prova a prendere la palla, piccola mocciosa! Ah, sì! Picchia! Ora vediamo quanto sei agile! Upsi! Megan, prenderesti la palla, ti prego! Nessun problema, tesoro! Dov'è finita? Eccola! Essi dal mio giardino! Megan, ti sta proprio bene! Tesoro! Cos'è tutto questo chiasso? Niente, papà! Upsi! Ok, divertiti! Sì, credo di essermi la levata di torno! Che... che cos'ha? Non ho mai visto un pulsante simile! Che cosa ho fatto? Ah, non sarà niente! Oh no! Non preoccuparti! Ti aiuterò io! Megan, sei così pesante! No, 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 no! Ora devo aggiustarti! Intanto mascheriamo tutte queste cicatrici! Userò questo nastro! Sei così inquietante! Fatto! Ti serve un occhio! Ma certo! Ah, ecco qua! Mi dispiace, tesoro, ma Megan ha bisogno del tuo occhio! Sì, perfetto! Eccoti qua! Grande! Ora devo truccarti! Devo trovare qualcosa per nascondere il nastro! Questo fondotinta è perfetto! Mettiamoci al lavoro! Oh, bene! Guardati, sei come nuova! Ma devo spazzolarti i capelli! Accidenti, c'è di tutto! Forza! Oh, 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 oh! Opsi! Che diavolo ha in testa? Ok, rimettiamo questa a posto! Sì, molto meglio! Oh? Oh no, per la miseriaccia! Ma c'è una spina! Ho un'idea! Spero che non esploda! Il sistema è di nuovo online! Evviva! Funziona! Ora posso staccarla dalla presa! Credo che tu abbia bisogno di questo braccio! Grazie, Savvy! Sì! Dobbiamo togliere queste macchine! Grazie, Savvy! Tesoro! Eccoci qui! Come stai, tesoro? Benissimo! Noi siamo migliori amiche! Sì! Bene! Adesso dobbiamo partire per la vacanza! Evviva! Fantastico! Aspetta, e io? Ciao, Megan! Tu guarda la casa, Megan! Credo di aver trovato un nuovo lavoro! Guarda che schifo! E si aspettano che io mangi questa roba? Cosa? Prendi questo, mamma! Versaglio centrato! Sei proprio un monello! Pensavo che fare la mamma sarebbe stato gratificante! Ho bisogno di una pausa! Guardami! Fermati! Non ce la faccio più! Ehi! Cosa c'è che non va? Ho bisogno di una vacanza! Adesso! Addì una tata! Qualcuno? Per favore! Chiamatemi! Ecco a te! Eh? Cos'è questo? Caspita! La nuova tata sta arrivando! Facciamolo! Una nuova tata? Carne fresca! Eh? Un ferro da stiro incustodito? Bene! Non credo proprio! Ehi! Sarà divertente! Davvero? Ho qualcosa in mente! Come sono affilate! E se le infilassi in quel coso? Sembra promettente! No, no, no! Ecco! Ma dai! Ma perché? Che peccato! Ho ancora queste però! Addio! Ehi! Oh! Presa! Addio! Torna qui! Pagherai per quello che hai fatto! No! Sono più veloce del fulmine! Tralenta! Fermati! Cosa? Pronto? Vieni, grazie! Cosa? Hai problemi di insetti? Insetti? Non il disinfettatore! Aiuto! Puoi correre ma non puoi nasconderti! Addio! Che figata! Ciao! Sono la tua nuova tata! Forza pesciolino! È tutto ok? Ti metterò proprio qui! Wow! Cos'è? Ah! Che male! Come la tiro fuori? Sembra brutto! Granchio, sai cosa fare? Ecco! Vedi, è tutto fatto! Cosa? Ce ne sono ancora così tante! Ma non preoccuparti! Le ho prese tutte! Perché l'hai fatto? Tu sei carino! Ehi, qualcuno ha chiamato! Wow! Tu verrai con me! Ciao! Tutto in un solo giorno di lavoro! Ti vediamo! Ciao! C'è qualcuno? La tua nuova tata è qui! È ora di dormire! È ora di cosa? Guardami negli occhi! Ok! Stai diventando molto assonnato! È ora di andare a letto! Sogni d'oro, mio piccolo amico! L'oscurità ti attende! Oh, aspetta! Buonanotte! No! Ho paura del buio! Non uscirei più di qui! Lo vedremo! Potata! Che c'è? Ok! Ciao! Quell'odore è agio! Ce l'ho fatta! Chi è che dorme ora? Dove è andato quel ragazzino? Qua giù! Guarda quanto aglio! Tutto tranne l'aglio! Vogliono una tata? Cos'è questo pasticcio? Sembra se è successo qualcosa di terribile! Ho paura! Salve! Oh, ciao! Sei il ragazzo della foto! Ottimo! Vediamo! Puzzano! È un fungo! Ho bisogno di un campione! Stai fermo! Bene! Ma continuiamo! Wow! Cosa ha fatto? Ottimo lavoro! È ora di ripulirli! Oh no! Vado! Porco, sparisci! C'è un vero piede sotto a tutta questa sporcizia! Oh, come sono forte! Forte? Ma io sono intelligente! Venite qui, piccoli funghetti! Creerò una torta di fango! Sembra buona! Adesso apri! Buon appetito! L'uccellino vuole uno spuntino? Apri! È tutto tuo! Goditelo e ingoia tutto! Dovrà uscire da qualche parte! Capisci cosa intendo? Ehi, è solo una maglietta! Wow! Buono! C'è nessuno in casa? Chi sei tu? Cosa diavolo? È buonissimo! Ok, andiamo in giro! Hai bisogno di una lavata! Dici? Assolutamente! Ti aiuto!